Alla fine ce l'avete fatta a provare il finale, insomma l'emozione, la prima volta. Prima volta il finale. Questa mattina sono un po' più fatta cosa degli altri, eravamo un po' sotto tono col fiato perché abbiamo aspettato un po' di tempo. Alla fine sono accennato e abbiamo fatto subito un bucchi, siamo andati subito più sopra e abbiamo chiuso subito la mattina. Sì, comunque siamo partiti da questa storia, ma questo secondo te mi fai cederà per la finale? Penso che la squadra di finale sarà quella più forte e non so, sarà quella più fisica, quella più grande fisicamente, quindi andiamo un attimo. Chi ti auguri di incontrare? Non so come si chiama. Quelli più scazzi. Quelli più scazzi, sì. Non sarà quelli più scazzi, sicuramente. Insomma speriamo di rincontrarci alla fine della finale, vuol dire che siete campioni. Ciao, grazie.